Genesi capitolo ventiseesimo Ora ci fu la carestia nel paese, oltre la prima carestia che c'era stata al tempo di Abramo, e Isacco andò da Abimelec, re dei Filistei, a Gerar, e l'Eterno gli apparve e gli disse, Non scendere in Egitto, dimora nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese, e io ti sarò teco e ti benedirò, poiché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo, Darò alla tua progenie tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. E Isacco dimorò a Gerar, e quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno alla sua moglie, egli rispondeva, è mia sorella, perché aveva paura di dire, è mia moglie, non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo avesse ad uccidermi a motivo di Rebecca, poiché ella era di bell'aspetto. Ora, prolungandosi quivi il suo soggiorno, avvenne che Abimelec, re dei Filistei, mentre guardava dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie, E Abimelec chiamò Isacco e gli disse, certo, Costei e tua moglie, come mai dunque hai detto è mia sorella? Ed Isacco rispose, perché dicevo, non vorrei esser messo a morte a motivo di lei. E Abimelec, che cos'è questo che ci hai fatto? Poco è mancato che qualcuno del popolo si giacesse con tua moglie, e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. E Abimelec diede quest'ordine a tutto il popolo, chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie, sia messo a morte. Isacco seminò in quel paese, e in quell'anno raccolse il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò grande oltre misura. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandri, di buoe, e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano, e perciò turarono ed empirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati, al tempo di Abramo suo padre. E Abimelec disse ad Isacco, vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora si partì di là, si accampò nella valle di Gerar, e qui vi dimorò. E Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre, che i filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre. E i servi di Isacco scavarono nella valle, e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gerar l'altercarrono coi pastori di Isacco, dicendo, l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Ezek, poiché quelli avevano conteso con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo, e per questo ancora quelli si altercarrono, e Isacco lo chiamò Sitina. Allora egli partì di là, e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarrono, ed egli lo chiamò Rehoboth, perché disse, ora l'Eterno ci ha messo a largo, noi prospereremo nel paese. Poi di là Isacco salì a Beershiba, e l'Eterno gli apparve in quella stessa notte, e gli disse, Io sono l'iddio di Abramo, tuo padre, non temere, poiché io sono teco, e ti benedirò, e moltiplicherò la tua progenie per amore di Abramo, mio servo. Ed egli edificò quivi un altare, e invocò il nome dell'Eterno, e vi piantò la sua tenda. E i servi di Isacco scavarono quivi un pozzo, e Abimelech andò da lui a Gerar con Ausat suo amico, e compicò il capo del suo esercito. E Isacco disse loro, Perché venite da me, giacché mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? E quelli risposero, Noi abbiamo chiaramente veduto che l'Eterno è teco, e abbiamo detto, Si faccia ora un giuramento fra noi, fra noi e te, e facciamo lega teco. Giura che non ci farai alcun male, così come noi, non t'abbiamo toccato, e non t'abbiamo fatto altro che del bene, e t'abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dall'Eterno. E Isacco fece loro un convito, ed essi mangiarono e bevero. La mattina di poi si elevarono di buon'ora, e si fecero un scambievole giuramento. Poi Isacco li accomietò, e quelli li partirono da lui in pace. Ora venne che, in quello stesso giorno, i servi di Isacco li vennero a dar notizia del pozzo che avevano scavato, dicendoli, Abbiamo trovato dell'acqua. Ed egli lo chiamò Shiba, per questo la città porta il nome di Beershiba, fino al giorno d'oggi. Or Esau era di quarant'anni, prese per moglie Giudit, figliuola di Beri, loiteo, e Bashmat, figliuola di Elot, loiteo. Esse furono cagione d'amarezza, d'animo, a Isacco e a Rebecca. Genesi, capitolo ventisettesimo Ora venne quando Isacco era divenuto vecchio, e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più, che egli chiamò Esau suo figliuolo maggiore, e gli disse, figliuolo mio. E quello rispose, eccomi. Ed Isacco, ecco, io sono vecchio, e non so il giorno della mia morte. De, prendi ora le tue armi, e il tuo turcasso, e il tuo arco, vattene fuori ai campi, prendimi un po' di caccia, e preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono. Portemela, perché io la mangi, e l'anima mia ti benedica prima che io muoia. Or Rebecca stava ad ascoltare, mentre Isacco parlava ad Esau suo figliuolo. Ed Esau se ne andò ai campi per fare qualche caccia, e portarla a suo padre. E Rebecca parlò a Giacobbe suo figliuolo, e gli disse, ecco, io ho udito tuo padre che parlava ad Esau tuo fratello, e gli diceva, portami un po' di caccia, e fammi una pietanza saporita, perché io la mangi, e ti benedica nel cospetto dell'Eterno, prima che io muoia. Or dunque figliuolo mio, ubbidisce alla voce mia, e fa quello che io ti comando. Va ora al grege, e prendimi due buoni capretti, e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre di quelle che gli piacciono. E tu la porterai a tuo padre perché la mangi, e così ti benedica prima di morire. E Giacobbe disse a Rebecca sua madre, ecco, Esau mio fratello è peloso, e io no, può darsi che mio padre mi tasti? Sarò allora da lui il reputato un ingannatore, e mi trarrò addosso una maledizione invece di una benedizione. E sua madre gli rispose, questa maledizione ricada su me figliuolo mio, ubbidisci pure alla mia voce, e va e prendemi i capretti. Ed egli dunque andò a prenderli, e li menò a sua madre, e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che piacevano al padre di lui. Poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esau, suo figliuolo maggiore, i quali aveva in casa presso di sé, e li fece indossare a Giacobbe, suo figliuolo minore, e con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo, che erano senza peli. Poi mise in mano a Giacobbe, suo figliuolo, la pietanza saporita e il pane che aveva preparato, ed egli venne a suo padre e gli disse, padre mio. E Esau rispose, eccomi, chi sei tu, figliuolo mio? E Giacobbe disse a suo padre, sono Esau il tuo primogenito, ho fatto come tu m'hai detto. De, levati, mettiti a sedere e mangia della mia caccia, affinché l'anima tua mi benedica. E Isacco disse al suo figliuolo, come hai fatto a trovarne così presto, figliuolo mio? E quello rispose, perché l'Eterno, il tuo Dio, l'ha fatta venire sulla mia via. E Isacco disse a Giacobbe, fatti vicino figliuolo mio che io ti tasti per sapere se sei proprio il mio figliuolo Esau o no. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco suo padre, e come questi l'ebbe tastato disse, la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esau. E non lo riconobbe, perché le mani di lui erano pelose come le mani di Esau suo fratello, e lo benedisse. E disse, sei tu proprio il mio figliuolo Esau? Ed egli rispose, sì. Ed Isacco gli disse, servimi che io mangi della caccia del mio figliuolo, e l'anima mia ti benedica. E Giacobbe lo servì, e Isacco mangiò. Giacobbe gli portò anche del vino, e degli beve. Poi Isacco suo padre gli disse, dè, fatti vicino, e baciami figliuolo mio. Ed egli si avvicinò e lo baciò. E Isacco sentì l'odore di vesti di lui, e lo benedisse, dicendo, ecco l'odore del mio figliuolo, è come l'odore di un campo che l'Eterno ha benedetto. E Dio ti dia della rugiada dei cieli, e della grassezza della terra in abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni, si inchinino davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli, e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledisce. Benedetto sia chiunque ti benedisce. E avvenne che come Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe se n'era appena andato dalla presenza di Isacco suo padre, Esau suo fratello giunse dalla sua caccia. Anche egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre, e gli disse, Levisi mio padre, e mangi della caccia del suo figliuolo, affinché l'anima tua mi benedica. E Isacco suo padre gli disse, Chi sei tu? Ed egli rispose, Sono Esau il tuo figliuolo primogenito. Ed Isacco fu preso da un tremito fortissimo, e disse, E allora chi è che ha preso della caccia e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e l'ho benedetto, e benedetto e i sarà. E quando Esau ebbe udito le parole di suo padre, dette in un grido forte ed amarissimo, poi disse a suo padre, Benedici anche me, padre mio. E Isacco rispose, Il tuo fratello è venuto con inganno, e ha preso la tua benedizione. Ed Esau, Non è forse ragione che gli è stato chiamato Giacobbe? Ma già soppiantato due volte. Mi tolse la mia primogenitura, ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione. Poi aggiunse, Non hai tu riservato qualche benedizione per me? Ed Isacco rispose e disse a Esau, Ecco, io l'ho costituito il tuo padrone, e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi, e l'ho provvisto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figliuolo mio? Ed Esau disse a suo padre, Non hai tu che questa benedizione, padre mio? Benedici anche me, o padre mio. Ed Esau alzò la voce e pianse. E Isacco, suo padre, rispose e gli disse, Ecco, la tua dimora sarà priva della grassezza della terra e della rugiada che scende dai cieli. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello. Ma verrà che, menando una vita errante, tu spezzerai il suo gioco sul tuo collo. Ed Esau prese a odiare Giacobbe, a motivo della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor suo, I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò il mio fratello Giacobbe. Furon riferite a Rebecca le parole di Esau, suo figliuolo maggiore, ed ella mandò a chiamare Giacobbe, suo figliuolo minore, e gli disse, Ecco, Esau tuo fratello si consola riguardo a te, proponendosi di ucciderti. Ordunque, figliuolo mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Karam da lebano mio fratello. E trattienti quivi qualche tempo, affinché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira del tuo fratello si sia stornata da te, ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ricondurre di là. Perché sarei io priva di voi due in uno stesso giorno? E Rebecca disse a Isacco, Io sono disgustata della vita a motivo di queste figliuole di Et. Se Giacobbe prende moglie fra le figliuole di Et, tra le figliuole del paese, una donna come quelle, che mi giova la vita? Genesi, capitolo ventottesimo Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine. Non prender moglie fra le figliuole di Canaan. Levati, vattene a Parangaram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi moglie di là fra le figliuole di Lebano, fratello di tua madre. E lo Dio onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi in guisa che tu divenga l'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione di Abramo a te e alla tua progenie con te, affinché tu posseghi il paese dove sei andato, peregrinando, e che Dio donò ad Abramo. E Isacco fece partire Giacobbe, il quale se ne andò in Padamaram dall'ebano figliuolo di Betuel, l'Arammeo, fratello di Rebekah, madre di Giacobbe e di Esau. Or, Esau vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe, e l'aveva mandato in Padamaram, perché vi prendesse moglie, e che, benedicendolo, gli aveva dato quest'ordine, non prender moglie fra le figliuole di Canaan, e che Giacobbe aveva obbedito a suo padre e a sua madre, e se ne era andato a Padamaram. Ed Esau s'accorse che le figliuole di Canaan dispiacevano ad Isacco, sua padre, e andò da Ismaele, e prese per moglie, oltre quelle che aveva già, Mahalat, figliuola di Ismaele, figliuolo di Abramo, sorella di Nebaioth. Or, Giacobbe partì da Beershiba, e se ne andò verso Karam, e capitò in un certo luogo, e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale, e si coricò quivi, e sognò. Ed ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra d'essa, e gli disse, Io sono l'Eterno, l'Idio di Abramo, tuo padre, l'Idio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua progenie, e la tua progenie sarà come la polvere della terra. Tu ti estenderai ad Occidente e ad Oriente e a Settentrione e a Mezzodì, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io son teco, e ti guarderò dovunque tu andrai, tu condurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima d'aver fatto quello che ho detto. E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse, Certo, l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ed ebbe paura e disse, Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e posse nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto, dicendo, Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo', se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del Padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Genesi capitolo ventinovesimo Poi Giacobbe si mise in cammino, e andò nel paese delle orientali, e guardò e vide un pozzo in un campo. Ed ecco tre greggi di pecore giacenti lì presso, poiché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, e la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quivi sadonavano tutti i greggi, i pastori rotolavano la pietra di sulla bocca del pozzo, e abbeveravano le pecore, poi rimettevano al posto la pietra sulla bocca del pozzo. E Giacobbe disse ai pastori, Fratelli miei, di dove siete? E quelli rispose, siamo di Karam. Ed egli disse loro, Conoscete voi l'ebano figliolo di Nahor? Ed essi, lo conosciamo. Ed egli disse loro, Sta egli bene? E quelli sta bene. Ed ecco Rachele, sua figliuola, che viene con le pecore. Ed egli disse, Ecco, è ancora pieno giorno, e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e menatele al pascolo. E quelli risposero, Non possiamo finché tutti i greggi siano radunati. Allora si rotola la pietra di sulla bocca del pozzo, e abbeveriamo le pecore. Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, poiché la era pastora. E quando Giacobbe vide Rachele figliuola di Lebano, fratello di sua madre, e le pecore di Lebano, fratello di sua madre, s'avvicinò, rotolò la pietra di sulla bocca del pozzo, e abbeverò il greggio di Lebano, fratello di sua madre. E Giacobbe basciò Rachele, alzò la voce e pianse. E Giacobbe fe sapere a Rachele che gli era parente del padre di lei, e che era figliuolo di Rebecca. Ed ella corse a dirlo a suo padre, e appena Lebano ebbe udito le notizie di Giacobbe figliuolo della sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò, e lo menò a casa sua. Giacobbe raccontò a Lebano tutte queste cose, e Lebano gli disse, Tu sei proprio, mie ossa e mia carne. Ed egli dimorò con lui durante un mese. Poi Lebano disse a Giacobbe, Perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi, quale deve essere il tuo salario? Or Lebano aveva due figliuole, e la maggiore si chiamava Lea, e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. E Giacobbe amava Rachele, e disse a Lebano, Io ti servirò sette anni per Rachele tua figliuola minore. E Lebano rispose, È meglio che la dia a te che a un altro uomo. Sta con me. E Giacobbe servì sette anni per Rachele, e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. E Giacobbe disse a Lebano, Dammi la mia moglie, poiché il mio tempo è compiuto, e io andrò da lei. Allora Lebano radunò tutta la gente del luogo e fece un convito. Ma la sera prese Lea, sua figliuola, e l'amenò da Giacobbe, il quale entrò da lei. E Lebano dette la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figliuola. E l'indomani mattina ecco che era Lea. E Giacobbe disse a Lebano, Che mai fatto? Non è egli per Rachele che io t'ho servito, perché dunque mai ingannato? E Lebano rispose, Non è usanza da noi di dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana di questa, e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me altri sette anni. Giacobbe fece così, e finì la settimana di quello sposalizio, poi Lebano gli dette in moglie Rachele, sua figliuola. E Lebano dette la sua serva Bila, per serva a Rachele, sua figliuola. E Giacobbe entrò pure da Rachele, ed anche amor Rachele più di Lea, e servì da Lebano altri sette anni. L'Eterno, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile, e Lea concepì e partorì un figliuolo al quale pose nome Rubem, perché disse l'Eterno ha veduto la mia afflizione, ed ora il mio marito mi amerà. Poi concepì di nuovo, e partorì un figliuolo, e disse l'Eterno ha udito che ero odiata, e però m'ha dato anche questo figliuolo, e lo chiamò Simeone. E concepì di nuovo e partorì un figliuolo, e disse questa volta il mio marito sarà ben unito a me, perché gli ho partorito tre figliuoli, per questo fu chiamato Levi, e concepì di nuovo e partorì un figliuolo, e disse questa volta celebrerò l'Eterno, perciò gli pose nome Giuda, e cessò da aver figliuoli. Genesi capitolo trentesimo Rachele vedendo che non dava figliuoli a Giacobbe, portò invidia alla sua sorella e disse a Giacobbe dammi dei figliuoli altrimenti muoio, e Giacobbe s'accese dira contro Rachele e disse tengo io il luogo di Dio che t'ha negato d'essere feconda? Ed ella rispose ecco la mia serva Bila entra da lei essa partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei avrò anch'io dei figliuoli ed ella gli diede la sua serva Bila per moglie e Giacobbe entrò da lei e Bila concepì e partorì un figliuolo a Giacobbe e Rachele disse il Dio m'ha reso giustizia e ha anche ascoltato la mia voce e m'ha dato un figliuolo perciò gli pose nome Dan e Bila serva di Rachele concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figliuolo e Rachele disse io ho sostenuto con mia sorella lotte di Dio ed ho vinto perciò gli pose nome Neftali Lea vedendo che aveva cessato da aver figliuoli prese la sua serva Zilpa e la diede a Giacobbe per moglie e Zilpa serva di Lea partorì un figliuolo a Giacobbe e Lea disse che fortuna e gli pose nome Gad poi Zilpa serva di Lea partorì a Giacobbe un secondo figliuolo e Lea disse me felice che le fanciulle mi chiameranno Beata perciò gli pose nome Asher or Ruben uscì al tempo della mietitura del grano e trovò delle mandragole per i campi e le portò a Lea sua madre allora Rachele disse a Lea te dammi delle mandragole del tuo figliuolo ed ella le rispose ti pare gli poco l'avermi tolto il marito che mi vuoi togliere anche le mandragole del mio figliuolo e Rachele disse ebbene si giaccia e gli teco questa notte in compenso delle mandragole del tuo figliuolo e come Giacobbe in sulla sera se ne tornava dai campi Lea uscì ad incontrarlo e gli disse devi entrare da me perché io ti ho accaparrato con le mie mandragole del mio figliuolo ed egli si giacque con lei quella notte e Dio esaudì Lea la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figliuolo ed ella disse e Dio mi ha dato la mia mercede perché diedi la mia serva a mio marito e gli pose nome Issacar e Lea concepì ancora e partorì a Giacobbe un sesto figliuolo e Lea disse e Dio mi ha dotata di buona dote questa volta il mio marito abiterà con me poiché gli ho partorito sei figliuoli e gli pose nome Zabulon poi partorì una figliuola e gli pose nome Dina e Dio si ricordò anche di Rachele e Dio l'esaudì e la rese feconda ed ella concepì e partorì un figliuolo e disse e Dio ha tolto il mio proprio e gli pose nome Giuseppe dicendo l'Eterno aggiunga un altro figliuolo or dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe Giacobbe disse a Levano dammi licenza che io me ne vado a casa mia nel mio paese dammi le mie mogli per le quali ti ho servito e i miei figliuoli e lasciami andare poiché tu ben conosci il servizio che ti ho prestato e Levano gli disse se ho trovato grazia dinanzi a te rimani già che credo di indovinare che l'Eterno mi ha benedetto per amor tuo poi disse fissami il tuo salario e te lo darò Giacobbe gli rispose tu sai in qual modo io t'ho servito e quel che sia diventato il tuo bestiame nelle mie mani poiché quel che avevi prima che venissi era poco ma ora sei accresciuto oltremondo e l'Eterno t'ha benedetto dovunque io ho messo il piede ora quando lavorerò io anche per la casa mia e Levano gli disse che ti darò io Giacobbe rispose non mi dar nulla se acconsenti a quel che sto per dirti io pascerò di nuovo i tuoi greggi e ne avrò cura passerò quest'oggi fra mezzo a tutti i tuoi greggi mettendo da parte di fra le pecore ogni agnello macchiato o violato e ogni agnello nero di fra le capre le violate o le macchiate e quello sarà il mio salario così da ora innanzi il mio diritto risponderà per me nel tuo cospetto quando vedrai ad accertare il mio salario tutto ciò che non sarà macchiato o violato fra le capre o nero fra gli agnelli sarà rubato se si troverà presso di me e Levano disse ebbene sia come tu dici e quello stesso giorno mise da parte i becchi striati e violati e tutte le capre macchiate e violate tutto quello che aveva del bianco e tutto quello che era nero fra gli agnelli e le affidò ai suoi figlioli e Levano frappose la distanza di tre giornate di cammino fra sé e Giacobbe e Giacobbe pascolava il rimanente dei greggi di Levano e Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo di mandorlo e di platano vi fece delle scortecciature bianche mettendo allo scoperto il bianco delle verghe poi collocò le verghe che aveva scortecciate in vista delle pecore nei rigagnoli negli abbeveratoi dove le pecore venivano a bere ed entravano in caldo quando venivano a bere le pecore dunque entravano in caldo avendo davanti quelle verghe e figliavano agnelli striati macchiati e vaiolati poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva avvolgere gli occhi delle pecore verso tutto quello che era istriato e tutto quello che era nero nel greggio di Levano egli si formò così dei greggi a parte che non unì ai greggi di Levano or avveniva che tutte le volte che le pecore vigorose del greggio entravano in caldo Giacobbe metteva le verghe nei rigagnoli in vista delle pecore perché le pecore entrassero in caldo vicino alle verghe ma quando le pecore erano deboli non ve le metteva così gli agnelli deboli erano di Levano e vigorosi di Giacobbe e quest'uomo diventò ricco oltremodo ed ebbe greggi numerosi serve servi cammelli ed asini Genesi capitolo trentunesimo or Giacobbe udile parole dei figliuoli di Levano che dicevano Giacobbe ha tolto tutto quello che era di nostro padre e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza Giacobbe osservò pure il volto di Levano ed ecco non era più verso di lui quello di prima e l'Eterno disse a Giacobbe torna al paese dei tuoi padri al tuo parentado e io sarò teco e Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso al suo greggio e disse loro io vedo che il volto di vostro padre non è più verso di me quello di prima ma l'edio di mio padre è stato meco e voi sapete che io ho servito il padre vostro con tutto il mio potere mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario dieci volte ma Dio non gli ha permesso di farmi del male quando egli diceva i macchiati saranno il tuo salario tutto il greggio figliava agnelli macchiati e quando diceva gli striati saranno il tuo salario tutto il greggio figliava agnelli striati così il Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e me l'ha dato e una volta avvenne al tempo che le pecore entravano in caldo che io alzai gli occhi e vidi in sogno che i maschi che montavano le femmine erano striati macchiati o chiazzati e l'agnello di Dio mi disse nel sogno Giacobbe e io risposi eccomi ed egli alza ora gli occhi e guarda tutti i maschi che montano le femmine sono striati macchiati o chiazzati perché ho veduto tutto quel che l'Ebano ti fa io sono l'iddio di Betel dove tu ungesti un monumento e mi facesti un voto ora levati partiti da questo paese e torna al tuo paese natio Rachele e Lea risposero e gli dissero abbiano e forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre non ci ha egli trattate da straniere quando ci ha vendute e ha per di più mangiato il nostro denaro tutte le ricchezze che Dio ha tolte al nostro padre sono nostre e dei nostri figlioli or dunque fa tutto quello che Dio ti ha detto allora Giacobbe si levò mise i suoi figlioli e le sue mogli sui cammelli e menò via tutto il suo bestiame tutte le sostanze che aveva acquistato il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padang Aram per andarsene da Isacco suo padre nel paese di Canam or mentre Lebano se n'era andato a tosare le sue pecore Rachele rubò gli idoli di suo padre Giacobbe si partì furtivamente da Lebano l'Arammeo senza dirgli che voleva fuggire così se ne fuggì con tutto quello che aveva si levò passò il fiume e si diresse verso il monte di Galahad il terzo giorno fu annunziato a Lebano che Giacobbe se n'era fuggito allora gli prese seco i suoi fratelli lo inseguì per sette giornate di cammino e lo raggiunse al monte di Galahad ma Dio venne a Lebano l'Arammeo in un sogno della notte e gli disse guardati dal parlare Giacobbe né in bene né in male Lebano dunque raggiunse Giacobbe or Giacobbe aveva piantata la sua tenda sul monte e anche Lebano e i suoi fratelli avevano piantato le loro sul monte di Galahad allora Lebano disse a Giacobbe che hai fatto partendoti da me furtivamente e menando via le mie figliuole come prigioniere di guerra perché te ne sei fuggito di nascosto e sei partito da me furtivamente e non mi hai avvertito io ti avrei accomietato con gioia e con canti e al suon di timpano e di cetra e non mi hai neppure permesso di baciare i miei figliuole e le mie figliuole tu hai egito stoltamente ora è in potere mio farvi del male ma l'iddio del padre vostro mi parlò la notte scorsa dicendo guardati dal parlare a Giacobbe né in bene né in male ora dunque te ne sei certo andato perché ne lavi alla casa di tuo padre ma perché hai rubato i miei dei e Giacobbe rispose all'epano gli è che avevo paura perché dicevo fra me che tu m'avresti potuto togliere per forza le tue figliuole ma chiunque sia colui presso il quale avrai trovato i tuoi dei egli deve morire in presenza dei nostri fratelli riscontra ciò che è tuo fra le cose mia e prenditelo or Giacobbe ignorava che Rachele avesse rubato gli idoli l'ebano dunque entrò nella tenda di Giacobbe nella tenda di Lea nella tenda delle sue serve ma non trovò nulla e uscito dalla tenda di Lea entrò nella tenda di Rachele or Rachele aveva preso gli idoli li aveva messi nel basto del cammello e vi si era posta sopra a sedere l'ebano frugò tutta la tenda e non trovò nulla ed ella disse a suo padre non sabbia il mio signore a male se non posso alzarmi davanti a te perché ho le solite ricorrenze delle donne ed egli cercò ma non trovò gli idoli allora Giacobbe si adirò e contesse con l'ebano e ripresa a dirgli qual è il mio delitto qual è il mio peccato perché tu m'abbia inseguito con tanto ardore tu hai frugato tutta la mia roba che hai trovato di tutta la roba di casa tua mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi fratelli e giudicano loro fra noi due ecco vent'anni che sono stato con te le tue pecore e le tue capre hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo grege io non ti ho mai portato quel che le fiere avevano squarciato l'ho subito il danno io tu mi ridomandavi conto di quello che era stato rubato di giorno rubato di notte di giorno mi consumava il caldo di notte il gelo il sonno fuggiva dai miei occhi ecco vent'anni che sono in casa tua t'ho servito quattordici anni per le tue figliuole e sei anni per le tue pecore e tu hai mutato il mio salario dieci volte se l'iddio di mio padre l'iddio di abramo e il terrore di isacco non fosse stato meco certo tu mi avresti ora rimandato a vuoto il dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza e Levano rispose a Giacobbe dicendo queste figliuole sono mie figliuole questi figliuoli sono miei figliuoli queste pecore sono pecore mie e tutto quello che vedi è mio e che posso fare oggi a questi mie figliuole o ai loro figliuoli che si hanno partorito or dunque vieni facciamo un patto fra me e te e serva esso di testimonianza fra me e te Giacobbe prese una pietra e la eresse in monumento e Giacobbe disse ai suoi fratelli raccogliete delle pietre ed essi presero delle pietre e ne fecero un mucchio e presso il mucchio mangiarono e Levano chiamò quel mucchio Jega Saudatha e Giacobbe lo chiamò Galaed e Levano disse questo mucchio è oggi testimonio fra me e te perciò fu chiamato Galaed ed anche Mitzpah perché Levano disse l'Eterno tenga l'occhio su me e su tutto quanto non ci potremo vedere l'un l'altro se tu affliggi le mie figliuole e se prendi altre mogli oltre le mie figliuole non un uomo sarà con noi ma Bada e Dio sarà testimonio fra me e te Levano disse ancora Giacobbe ecco questo mucchio di pietre è anche il monumento che io ho eretto fra me e te sia questo mucchio un testimone sia questo monumento un testimonio che io non passerò oltre questo mucchio per andare a te e che tu non passerai oltre questo mucchio e questo monumento per far del male l'Idio di Abramo l'Idio di Nahor l'Idio del padre loro sia giudice fra noi e Giacobbe giurò per il terrore di Esacco suo padre poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte ed invitò i suoi fratelli a mangiare del pane essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte la mattina Levano si levò di buon'ora baciò i suoi figliuoli e le sue figliuole e li benedisse poi Levano se ne andò e tornò a casa sua Genesi capitolo trentaduesimo Giacobbe continuò il suo cammino e gli si fecero incontro degli angeli di Dio e come Giacobbe li vide disse questo è il campo di Dio e pose nome a quel luogo Mahanaim Giacobbe mandò davanti a sé dei messi a Esau suo fratello nel paese di Seir nella campagna di Edom e dette loro quest'ordine direte così ad Esau mio signore così dice il tuo servo Giacobbe io ho soggiornato presso l'Ebano e vi sono rimasto fino ad ora ho buoi asini pecore servi e serve e lo mando a dire al mio signore per trovare grazie agli occhi tuoi i messi tornarono a Giacobbe dicendo siamo andati dal tuo fratello Esau ed eccolo che ti viene incontro con quattrocento uomini allora Giacobbe fu preso da gran paura e da angosciato e divise in due schiere la gente che era con lui i greggi gli armenti i cammelli e disse se Esau viene contro una delle schiere e la batte la schiera che rimane potrà salvarsi poi Giacobbe disse oh iddio d'Abramo mio padre iddio di mio padre Isacco oh eterno che mi dicesti torna al tuo paese e al tuo parentato e ti farò del bene io sono troppo piccolo per essere degno di tutte le benignità che tu hai usate e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo poiché io passai questo giordano col mio bastone ed ora sono divenuto due schiere liberami ti prego dalle mani di mio fratello dalle mani di Esau perché io ho paura di lui e temo che venga e mi dia addosso e non risparmiando né madre né bambini e tu dicesti certo io ti farò del bene e farò diventare la tua progenie come l'arena del mare la quale non si può contare da tanta che ce n'è ed egli passò quivi quella notte e di quello che aveva sotto mano prese di che fare un dono al suo fratello Esau duecento capre e venti capri duecento pecore e venti montoni trenta cammelle allattanti coloro 40 vacche e dieci tori venti asine e dieci pulledri e li consegnò ai suoi servi gregge per gregge separatamente e disse ai suoi servi passate dinanzi a me e fate che vi sia qualche intervallo fra gregge e gregge e dette quest'ordine al primo quando il mio fratello Esau ti incontrerà e ti chiederà di chi sei dove vai a chi appartiene questo gregge che va dinanzi a te tu risponderai al tuo servo Giacobbe ed è un dono inviato al mio signore Esau ed ecco egli stesso viene dietro a noi e dette lo stesso ordine al secondo al terzo e a tutti quelli che seguivano i greggi dicendo in questo modo parlerete a Esau quando lo troverete e direte ecco il tuo servo Giacobbe che viene gli stesso dietro a noi poiché diceva io lo placherò col dono che mi precede e dopo vedrò la sua faccia forse mi farà buona accoglienza così il dono andò dinanzi a lui ed egli passò la notte nell'accampamento e si levò quella notte prese le sue due mogli le sue due serve i suoi undici figlioli e passò il guado di Yabok li prese fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possereva e Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba e quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la connessura dell'anca e la connessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e l'uomo disse lasciami andare che spunta l'alba e Giacobbe non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto e l'altro gli disse qual è il tuo nome ed egli rispose Giacobbe e quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto e Giacobbe gli disse ed è palesami il tuo nome e quello rispose perché mi chiedi il mio nome e lo benedisse quivi e Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse ho veduto i Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata il sole si levava come gli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dell'anca per questo fino al dì d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la commessura dell'anca perché quell'uomo aveva toccato la commessura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia Genesi capitolo trentatreesimo Giacobbe alzò gli occhi guardò ed ecco Esau che veniva avendo secco quattrocento uomini allora divise i figliuoli fra Lea Rachele e le due serve e mise davanti le serve i loro figliuoli poi Lea e i suoi figliuoli e da ultimo Rachele e Giuseppe ed egli stesso passò dinanzi a loro si inchinò fino a terra sette volte finché si fu avvicinato al suo fratello ed Esau gli corse incontro l'abbracciò gli si gettò al collo e lo baciò e piansero poi Esau alzando gli occhi vide le donne e i fanciulli e disse chi sono questi qui che hai teco Giacobbe rispose sono i figliuoli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo allora le serve si accostarono esse e i loro figliuoli e si inchinarono si accostarono anche Lea e i suoi figliuoli e si inchinarono poi si accostarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono ed Esau disse che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrata Giacobbe rispose è per trovare grazia agli occhi del mio Signore ed Esau io ne ho assai della roba fratel mio tienti per te ciò che è tuo ma Giacobbe disse no ti prego se ho trovato grazia agli occhi tuoi accetta il dono della mia mano giacché io ho veduto la tua faccia come uno vede la faccia di Dio e tu mi hai fatto gradevole accoglienza dè accetta il mio dono che te è stato recato perché il Dio m'ha usato grande bontà ed io ho di tutto e insiste tanto che Esau l'accettò poi Esau disse partiamo incamminiamoci e io andrò dinnanzi a te e Giacobbe rispose il mio Signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano se si forzassero per un giorno solo a camminare le bestie morrebbero tutte dè passi il mio Signore innanzi al suo servo e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei fanciulli finché arrivi presso al mio Signore a Seir ed Esau disse permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che omeco ma Giacobbe rispose e perché questo basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore così Esau in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir Giacobbe partì alla volta di Sukkot ed edificò una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame e per quello che il luogo fu chiamato Sukkot Poi Giacobbe tornando da Padang Aram arrivò sano e salvo alla città di Siche nel paese di Canaan e piantò le tende di rimpetto alla città e comprò dai figliuoli di Emor padre di Siche per cento pezzi di denaro la parte del campo dove aveva piantato le sue tende ed eresse quivi un altare e lo chiamò El Elohet Israel Genesi capitolo trentaquattresimo Or Dina la figliuola che Lea aveva partorito a Giacobbe uscì per vedere le figliuole del paese e Siche figliuolo di Emor Loiveo principe del paese vedutala la rapì si giacque con lei e la violentò e l'anima sua s'appassionò per Dina figliuola di Giacobbe egli amò la fanciulla e parlò al cuore di lei poi disse a Emor suo padre dammi questa fanciulla per moglie Or Giacobbe udì che egli aveva disonorato la sua figliuola Dina e come i suoi figliuoli erano ai campi col suo bestiame Giacobbe si tacque finché non furon tornati e Emor padre di Siche si recò da Giacobbe per parlargli e i figliuoli di Giacobbe com'ebbero udito il fatto tornarono dai campi e questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commessa un'infamia in Israele giacendosi con la figliuola di Giacobbe cosa che non era da farsi ed Emor parlò loro dicendo l'anima l'anima del mio figliuolo Siche si è unita strettamente alla vostra figliuola dè dategliela per moglie e imparentatevi con noi dateci le vostre figliuoli e prendetevi le vostre figliuole nostre voi abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione dimoratevi trafficatevi e acquistatevi delle proprietà allora Siche disse al padre e ai fratelli di Dina fate che io trovi grazie agli occhi vostri e vi darò quel che mi direte imponetemi pure una grandote e di grandoni e io ve li darò come mi direte ma datemi la fanciulla per moglie i figliuoli di Giacobbe rispossero a Siche ed a Emor suo padre e parlarono loro con astuzia perché Siche aveva disonorato Dina loro sorella e dissero loro questa cosa non la possiamo fare non possiamo dare la nostra sorella a un uomo che non è circonciso già che questo per noi sarebbe un opprobrio soltanto a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta se vorrete essere come siamo noi circoncidendo ogni maschio tra voi allora vi daremo le nostre figliuole e noi ci prenderemo le figliuole vostre abiteremo con voi e diventeremo un popolo solo ma se non ci volete ascoltare e non vi volete far circoncidere noi prenderemo la nostra fanciulla e ce ne andremo le loro parole piacquero a Emor e a Siche figliuolo di Emor e il giovane non indugiò a fare la cosa perché portava affezione alla figliuola di Giacobbe ed era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre Emor e Siche il suo figliuolo vennero alla porta della loro città e parlarono alla gente della loro città dicendo questa è gente pacifica qui tra noi rimanga dunque pure nel paese e vi traffichi poiché ecco il paese è abbastanza ampio per loro noi prenderemo le loro figliuole per mogli e daremo loro le nostre ma soltanto a questa condizione questa gente consentirà ad abitare con noi per formare un popolo solo che ogni maschio fra noi sia circonciso come sono circoncisi loro il loro bestiame le loro sostanze tutti i loro animali non saranno nostri acconsentiamo alla loro domanda ed essi abiteranno con noi e tutti quelli che uscivano dalla porta della città diedero ascolto ad Emo e a Siche il suo figliuolo ed ogni maschio fu circonciso ognuno di quelli che uscivano dalla porta della città ora avvenne che il terzo giorno mentre quelli erano sofferenti due dei figliuoli di Giacobbe Simeone e Levi fratelli di Dina presero ciascuno la propria spada assalirono la città che si tenera sicura e uccisero tutti i maschi passarono anche a fil di spada Emo e Siche il suo figliuolo presero Dina dalla casa di Siche e uscirono i figliuoli di Giacobbe si scettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata e presero i loro greggi i loro armenti i loro asini quello che era in città e quello che era nei campi e portaron via come bottino tutte le loro ricchezze tutti i loro piccoli bambini le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case allora Giacobbe disse a Simeone ed a Levi voi mi date grande affanno mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese presso i cananei e i faresei e io non ho che poca gente essi si raduneranno contro di me e mi daranno addosso e sarò distrutto io con la mia casa ed essi risposero doveva la nostra sorella esser trattata come una meretrice Genesi capitolo trentacinquesimo e Dio disse a Giacobbe levati vattene a Beto dimora quivi e fa un altare all'iddio che ti apparve quando fuggivi dinnanzi al tuo fratello Esau allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui toglietegli dei stranieri che sono fra voi purificatevi e cambiatevi i vestiti e leviamoci e andiamo a Beto ed io farò quivi un altare all'iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto ed essi dettero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi e Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso a Sichem poi si partirono e un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro tal che non inseguirono i figlioli di Giacobbe così Giacobbe giunse a Luz cioè Beto che è nel paese di Canaan egli con tutta la gente che aveva seco ed edificò quivi un altare e chiamò quel luogo Hel Beto perché quivi il Dio gli era apparso quando egli fuggiva dinanzi al suo fratello allora morì Deborah Balea di Rebecca e fu sepolta al di sotto di Beto sotto la quercia che fu chiamata Halon Bakuth e Dio apparve allora Giacobbe quando questi veniva da Padangaram e lo benedisse e Dio gli disse il tuo nome è Giacobbe tu non sarai più chiamato Giacobbe ma il tuo nome sarà Israele e gli mise nome Israele e Dio gli disse io sono lì Dio onnipotente sì fecondo e moltiplica una nazione anzi una moltitudine di nazioni discenderà da te e dei re usciranno dai tuoi lombi e darò a te e alla tua progenie dopo di te il paese che detti ad Abramo ed Isacco ed io risalì di presto a lui dal luogo dove gli aveva parlato e Giacobbe eresse un monumento di pietra nel luogo dove Dio gli aveva parlato vi fece sopra una livazione e vi sparse su dell'olio e Giacobbe chiamò Beto il luogo dove Dio gli aveva parlato poi partirono da Beto e c'era ancora qualche distanza per arrivare ad Efrata quando Rachele partorì essa ebbe un duro parto e mentre penava a partorire l'allevatrice le disse non temere perché eccoti un altro figliuolo e come ella stava per rendere l'anima perché morì fosse nome al bambino Benoni ma il padre lo chiamò Beniamino e Rachele morì e fu sepolta sulla via di Efrata cioè di Bethlehem e Giacobbe eresse un monumento sulla tomba di lei questo è il monumento della tomba di Rachele il quale esiste tuttora poi Israele si partì e piantò la sua tenda al di là di Migdal Eder e avvenne che mentre Israele abitava in quel paese Ruben andò e si giacque con Bila concubina di suo padre e Israele lo seppe ora i figliuoli di Giacobbe erano dodici i figliuoli di Lea Ruben primogenito di Giacobbe Simeone Levi Giuda Issacar e Zabulon e figliuoli di Rachele Giuseppe e Beniamino e figliuoli di Bila serva di Rachele Dan e Neftali e figliuoli di Zilpa serva di Lea Gar e Asher questi sono i figliuoli di Giacobbe che gli nacquero in Padam Aram e Giacobbe venne da Isacco suo padre a Manre a Kiriat Arba cioè a Ebron dove Abramo e Isacco avevano soggiornato e i giorni di Isacco furono centotant'anni e Isacco spirò morì e fu raccolto presso il suo popolo vecchio e sazio di giorni ed Esau e Giacobbe i suoi figliuoli lo seppellirono Genesi capitolo trentaseesimo questa è la posterità di Esau cioè Edom Esau prese le sue moglie fra le figliuoli dei Cananei Ada figliuola di Elon Loiteo Hoholibama figliuola di Ana figlia di Zibeon Loiveo e Bashmat figliuola di Ismaele sorella di Nebaioth Ada partori ad Esau Eliphaz Bashmat partori Reuel Oholibama partori Yehush Yalam e Korah questi sono i figliuoli di Esau che gli nacquero nel paese di Canan Esau prese le sue mogli i suoi figliuoli le sue figliuole tutte le persone della sua casa i suoi greggi tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi assieme nel paese di Canan e se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello giacché i loro beni erano troppo grandi perché essi potessero dimorare assieme e il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a motivo del loro bestiame ed Esau abitò sulla montagna di Seir Esau è Edom questa è la posterità di Esau padre degli Edomiti sulla montagna di Seir questi sono i nomi dei figliuoli di Esau Eliphaz figliuolo di Ada moglie di Esau Reuel figliuolo di Bashmath moglie di Esau i figliuoli di Eliphaz furono Temam Omar Tsefo Gatham Kenaz Timna era la concubina di Eliphaz figliuolo di Esau essa partoria di Eliphaz Amalek questi furono i figliuoli di Ada moglie di Esau e questi furono i figliuoli di Reuel Nahat e Zerach Shammat e Mizza questi furono i figliuoli di Bashmat moglie di Esau e questi furono i figliuoli di Holimbama figliuola di Ana figliuola di Zibeon moglie di Esau essa partoria Esau Yevush Yalam e Korah questi sono i capi dei figliuoli di Esau i figliuoli di Eliphaz primogenito di Esau il capo Teman il capo Omar il capo Tsefo il capo Kenaz il capo Korah il capo Gotham il capo Amalek questi sono i capi discesi da Eliphaz nel paese di Edom e sono i figliuoli di Ada e questi sono i figliuoli di Reuel figliuolo di Esau il capo Nahat il capo Zerach il capo Shammah il capo Mizza questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figliuoli di Bashmat moglie di Esau e questi sono i figliuoli di Holibama moglie di Esau il capo Yeush il capo Yalam il capo Korah questi sono i capi discesi da Holibama figliuola di Ana moglie di Esau questi sono i figliuoli di Esau che è Edom e questi sono i loro capi questi sono i figliuoli di Seir lo oreo che abitava il paese Lotan Shobal Sibion Ana Dishon Etzer e Dishna questi sono i capi degli orei i figliuoli di Seir nel paese di Edom i figliuoli di Lotan furono Hori e Hemam e la sorella di Lot fu Timna e questi sono i figliuoli di Shobal Alvan Manahat Eba Scefo e Oman e questi sono i figliuoli di Zibeon Paiar e Ana e quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre passeva gli asini di Zibeon suo padre e questi sono i figliuoli di Ana Dishon e Olibama figliuola di Ana e questi sono i figliuoli di Dishon Hemdam Eshban Ihitran e Keran questi sono i figliuoli di Etzer Bilham Zahavan e Hakan e questi sono i figlioli di Dishnam Uzz e Aram questi sono i capi degli Orei il capo Lotan il capo Shebol il capo Zibeon il capo Ana il capo Dishon il capo Etzer il capo Dishan questi sono i capi degli Orei i capi che si ebbero nel paese di Zeir questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcuno ne regnasse nei figliuoli di Israele Bela figliuolo di Behor regnò in Edom e il nome della sua città fu Dinhaba Bela morì e Iobab figliuolo di Zerac di Botsra regnò in luogo suo Iobab morì e Ushman del paese dei Temaniti regnò in luogo suo e Ushman morì e Hadad figliuolo di Bedad che sconfisse i medianiti nei campi di Moab regnò in luogo suo e il nome della sua città fu Avith Hadad morì a Samla di Masreca e regnò in luogo suo Samma morì Esal di Rebot sul fiume regnò in luogo suo Saul morì e Ba Anam figliuolo di Akbor regnò in luogo suo Ba Hal Anam figliuolo di Akbor morì e Adar regnò in luogo suo il nome il nome della sua città fu Pau e il nome della sua moglie Mehetabel figliuola di Matred figliuola di Matsahab e questi sono i nomi dei capi di Esau secondo le loro famiglie secondo il loro territorio coi loro nomi il capo Timna il capo Alva il capo Ieteth il capo Olibama il capo Ela il capo Pinon il capo Kenaz il capo Teman il capo Mibzar il capo Magdiel il capo Iram questi sono i capi di Edom secondo le loro dimore nel paese che possedevano questo è Esau il padre degli Edomiti Genesi capitolo trentasettesimo Ol Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato nel paese di Canaan e questa è la posterità di Giacobbe Giuseppe all'età di diciassette anni passeva e grege coi suoi fratelli e giovinetto com'era stava coi figlioli di Bila e coi figlioli di Zilpa moglie di suo padre e Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto or Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche e i suoi fratelli vedendo che il padre amava lui più di tutti gli altri fratelli l'odiavano e non gli potevano parlare amichevolmente or Giuseppe ebbe un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono più che mai ed egli disse loro uditevi prego il sogno che ho fatto noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi quando ecco che il mio covone si levò su tutti e si tene rito ed ecco i covoni vostri farsi dintorno al mio covone e si inchinarono dinnanzi allora i suoi fratelli gli dissero dovrai tu dunque regnare su di noi o dominarci e lo odiarono più che mai a motivo dei suoi sogni e delle sue parole egli ebbe ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo ho avuto un altro sogno ed ecco che il sole la luna e undici stelle mi si inchinavano dinnanzi ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo sgridò e gli disse che significa questo sogno che hai avuto dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire proprio a inchinarsi davanti a te fino a terra e i suoi fratelli gli portavano invidia ma suo padre serbava dentro di sé queste parole ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascere il gregge del padre a Sichem e Israele disse a Giuseppe i tuoi fratelli non sono forse nella pastura di Sichem vieni che ti manderò da loro ed egli rispose eccomi e Israele gli disse va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto va col gregge bene e torna a dirmelo così lo mandò dalla valle di Ebrom e Giuseppe arrivò a Sichem e un uomo lo trovò che andava errando per i campi e quest'uomo lo interrogò dicendo che cerchi e gli rispose cerco i miei fratelli dè dimmi dove siano a pascere il gregge e quel uomo gli disse son partiti di qui perché li ho uditi che dicevano andiamoscene a Dotan e Giuseppe andò quindi in traccia dei suoi fratelli e li trovò a Dotan essi lo scorsero da lontano e prima che gli fosse loro vicino macchinarono d'ucciderlo e dissero l'un con l'altro ecco cotesto sognatore che viene ordunque venite uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne diremo poi che una mala bestia l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani disse non gli togliamo la vita poi Ruben aggiunse non spargete sangue gettatelo in quella cisterna che è nel deserto ma non lo colpisca la vostra mano diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli lo spogliarono della sua veste e della veste lunga con le maniche che aveva addosso lo presero e lo gettarono nella cisterna or la cisterna era vuota non c'era puntacqua poi si misero a sedere per prender cibo e avendo alzati gli occhi ecco che videro una carovana di smailiti che venivano da Galahad coi suoi cammelli carichi di aromi di balsamo e di mirra che portavano in Egitto e Giuda disse ai suoi fratelli che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue venite vendiamolo agli smailiti e non lo colpisca la nostra mano poiché è nostro fratello nostra carne e i suoi fratelli gli dettero ascolto e come quei mercanti medianiti passavano essi trassero e fecero salire Giuseppe su dalla cisterna e lo vendettero per venti sicli d'argento a quelli smailiti e questi menarono Giuseppe in Egitto or Ruben tornò alla cisterna ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna allora egli si stracciò le vesti tornò dai suoi fratelli e disse il fanciullo non c'è più ed io dove andrò io essi presero la veste di Giuseppe scanarono un becco e intrinsero del sangue la veste poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire abbiamo trovato questa veste vedi tu se sia quella del tuo figliuolo o no ed egli la riconobbe e disse è la veste del mio figliuolo una mala bestia l'ha divorrato per certo Giuseppe è stato sbranato e Giacobbe si stracciò le vesti e si mise un cilicio sui fianchi e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni e tutti i suoi figliuoli e tutte le sue figliuole vennero a consolarlo ma egli rifiutò d'essere consolato e disse io scenderò facendo cordoglio del mio figliuolo nel soggiorno dei morti e suo padre lo pianse e quei madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar ufficiale di Faraone capitano delle guardie Genesi capitolo trentottesimo ora venne che in quel tempo Giuda discesse di presso ai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adulam che aveva nome Hira e Giuda vide quivi la figliuola di un cananeo chiamato Shua e se la prese e convisse con lei ed ella concepì e partorì un figliuolo al quale gli pose nome Her poi ella concepì di nuovo e partorì un figliuolo al quale pose nome Onan e partorì ancora un figliuolo al quale pose nome Shela or Giuda era a Chesib quando ella lo partorì e Giuda prese per Her suo primogenito una moglie che aveva nome Tamar ma Her primogenito di Giuda era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire allora Giuda disse a Onan va dalla moglie di tuo fratello prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello e Onan sapendo che quella progenie non sarebbe sua quando s'accostava alla moglie del suo fratello faceva in modo di impedire il concepimento per non dar progenie al fratello ciò che gli faceva di spiacque all'Eterno il quale fece morire anche lui allora Giuda disse a Tamar sua nuora rimani vedova in casa di tuo padre finché Scela mio figliuolo sia cresciuto perché diceva badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli e Tamar se ne andò e dimorò in casa di suo padre passaron molti giorni e morì la figliola di Shua moglie di Giuda e dopo che Giuda si fu consolato salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna egli col suo amico Ira la Dulamita di quello fu informata Tamar e le fu detto ecco il tuo suocero sale a Tinna a tosare le sue pecore allora ella si tolse le vesti da vedova si coprì di un velo e se ne avvolse tutta e si posse a sedere alla porta di Enaim che è sulla via di Timna poiché vedeva che Scela era cresciuto e non di meno lei non gli era stata data per moglie come Giuda la vide la prese per una meretrice perché si aveva il viso coperto e accostatosi a lei sulla via le disse lasciami venire da te poiché non sapeva che la fosse sua nuora ed ella rispose che mi darai per venire da me ed egli le disse ti manderò un capretto del mio greggio ed ella mi darai tu un pegno finché tu me l'abbia mandato ed egli disse e che pegno ti darò e l'altra rispose il tuo sigillo il tuo cordone e il bastone che hai in mano egli glieli dette andò da lei ed ella rimase incinta di lui poi ella si levò e se ne andò e si tolse il velo e si rimise le vesti di vedova e Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico la Dulamita al fin di ritrarre il pegno di mano di quella donna ma egli non la trovò interrogò la gente del luogo dicendo dov'è quella meretrice che stava e in aim sulla via e quelli risposero qui non c'è stata alcuna meretrice ed egli se ne tornò da Giuda e gli disse non l'ho trovata e per di più la gente del luogo mi ha detto qui non c'è stata alcuna meretrice e Giuda disse si tenga pure il pegno che non abbiano a incontrare del disprezzo ecco io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata or circa tre mesi dopo vennero a dire a Giuda Tamar tua nuora si è prostituita e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione e Giuda disse menatela fuori e sia arsa e come la menavano fuori e la mandò a dire al suo socero sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose e disse riconosciti prego di chi siano questo sigillo e questi cordoni e questo bastone Giuda le riconobbe e disse ella è più giusta di me giacché io non l'ho data a scela mio figliuolo ed egli non ebbe più relazione con lei or quando venne il tempo in cui doveva partorire ecco che si aveva in seno due gemelli e mentre partoriva l'undessi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo questo qui esce il primo ma egli ritirò la mano ed ecco uscir fuori l'altro suo fratello allora la levatrice disse perché ti sei fatta questa breccia per questo motivo gli fu messo nome Perez poi uscì il suo fratello che aveva alla mano il filo di scarlatto e fu chiamato Zerac Genesi capitolo trentanovesimo Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar ufficiale di Faraone capitano delle guardie un egiziano lo comprò da quegli smaeliti che l'avevano condotto quivi e l'Eterno fu con Giuseppe il quale prosperava e stava in casa del suo signore l'Egiziano e il suo signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva Giuseppe entrò nelle grazie di lui e attendeva al servizio personale di Potifar il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli mise nelle mani tutto quello che possedeva e da quel che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa egli ebbe affidato tutto quello che possedeva l'Eterno benedisse la casa dell'Egiziano per amore di Giuseppe e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa e in campagna Potifar lascia tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non s'occupava più di cosa alcuna trarne del suo proprio cibo or Giuseppe era di presenza avvenente e di bell'aspetto dopo queste cose avvenne che la moglie del Signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse giasciti meco ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo Signore ecco il mio Signore non si informa da me di nulla che è nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi è vietato tranne che te perché sei sua moglie come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio e benché la gliene parlasse ogni giorno Giuseppe non acconsentì né a giacersi né a stare con lei ora venne che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non c'era qui alcuno della gente di casa ed essa lo afferrò per la veste e gli disse giaciti meco ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori e quando ella vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito fuori chiamò la gente della sua casa e le parlò così vedete Esha ha condotto in casa un ebreo per pigliarsi il gioco di noi esso è venuto da me per giacersi meco ma io ho gridato a gran voce e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo ma ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito fuori e si tenne accanto la veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa allora ella gli parlò in questa maniera quel servo ebreo che tu hai portato qui venne da me per pigliarsi gioco di me ma come io ho alzato la voce e ho gridato egli mi ha lasciato qui la sua veste e se ne è fuggito fuori quando il signore di Giuseppe ebbe intese le parole di sua moglie che gli diceva il tuo servo mi ha fatto ma fatto questo l'ira sua si infiammò e il signore di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re egli fu dunque là in quella prigione ma l'Eterno fu con Giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità cattivandogli le grazie del governatore della prigione e il governatore delle prigioni affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nella carcere e nulla si faceva quivi senza di lui il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quelli che egli intraprendeva Genesi capitolo quarantesimo or dopo queste cose avvenne che il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offessero il loro signore il re d'Egitto e Faraone si indignò contro i suoi due ufficiali contro il capo dei coppieri e il capo dei panattieri e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie nella prigione stessa dove Giuseppe stava rinchiuso e il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe il quale li serviva ed essi rimasero in prigione per un certo tempo e durante una medesima notte il coppiere e il panettiere del re d'Egitto che erano rinchiusi nella prigione ebbero ambedue un sogno un sogno per uno e ciascun sogno aveva il suo significato particolare Giuseppe venuto la mattina da loro li guardò ed ecco erano conturbati e interrogò gli ufficiali di Faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo signore e disse perché avete oggi il viso così mesto e quelli gli risposero abbiamo fatto un sogno e non v'è alcuno che ce lo interpreti e Giuseppe disse loro le interpretazioni non appartengono a Dio raccontatemi i vostri sogni vi prego il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse nel mio sogno ecco mi stava davanti una vite e in quella vite c'erano tre tralci e mi pareva che si germogliasse poi fiorisse ed esse infine dei grappoli d'uva matura e io avevo in mano la coppa di Faraone presi l'uva la spremei nella coppa di Faraone e diedi la coppa in mano a Faraone Giuseppe gli disse questa è l'interpretazione del sogno i tre tralci sono tre giorni ancora tre giorni e Faraone ti farà rialzare il capo ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano a Faraone la sua coppa nel modo che facevi prima quando eri suo coppiere ma ricordati di me quando sarai felice e simi benigno ti prego parla di me a Faraone e fammi uscire da questa casa perché io fui portato via furtivamente dal paese degli ebrei e anche qui io non ho fatto nulla da essere messo in questa fossa il capo dei panantieri vedendo che la interpretazione di Giuseppe era favorevole gli disse anch'io nel mio sogno ecco avevo tre canestri di pan bianco sul capo e nel canestro più alto c'era per Faraone ogni sorta di vivande cotte al forno e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo Giuseppe rispose e disse questa è l'interpretazione del sogno i tre canestri sono tre giorni ancora tre giorni e Faraone ti porterà via la testa di sulle spalle ti farà impiccare a un albero e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso e avvenne il terzo giorno che era il natalizio di Faraone che questi dette un convito a tutti i suoi servitori e fece alzare il capo al gran coppiere e alzare il capo del gran panettiere in mezzo ai suoi servitori ristabili il gran coppiere nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano di Faraone ma fece appiccare il gran panettiere secondo la interpretazione che Giuseppe aveva loro data il gran coppiere però non si ricordò di Giuseppe ma lo dimenticò Genesi capitolo quarantunesimo ora venne in capo a due anni interi che Faraone ebbe un sogno ed ecco che stava presso il fiume e su dal fiume ecco salire sette vacche di bella apparenza e grasse e mettersi a pascere nella giuncaia e dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutta apparenza e scarne e fermarsi presso alle prime sulla riva del fiume e le vacche di brutta apparenza e scarne divorarno le sette vacche di bella apparenza e grasse e Faraone si svegliò poi si riaddormentò e sognò di nuovo ed ecco sette spighe grasse e belle venire su da un unico stelo poi ecco sette spighe sottili e arse dal vento orientale germogliare dopo quelle altre e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grasse e piene e Faraone si svegliò ed ecco era un sogno e la mattina lo spirito di Faraone fu conturbato ed egli mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone allora il capo dei coppieri parlò a Faraone dicendo ricordo oggi i miei falli Faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie me e il capo dei panattieri l'uno e l'altro facemmo un sogno nella medesima notte facemmo ciascuno un sogno avente il suo proprio significato or c'era quivi con noi un giovane ebreo servo del capo delle guardie a lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno e le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli aveva data Faraone ristabili me al mio ufficio e l'altro lo fece a piccare allora Faraone mandò a chiamare Giuseppe il quale fu tosto tratto fuori della prigione sotterranea egli si rase si cambiò il vestito e venne da Faraone e Faraone disse a Giuseppe ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare e ho udito dire di te che quando t'hanno raccontato un sogno tu lo puoi interpretare Giuseppe rispose a Faraone dicendo non son io ma sarai Dio che darà a Faraone una risposta favorevole e Faraone disse a Giuseppe nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume quando ecco salir dal fiume sette vacche grasse di bella apparenza e mettersi a pascere nella giuncaia e dopo quelle ecco salire altre sette vacche magre di bruttissima apparenza e scarne tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto e le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse e quelle entrarono loro in corpo e non si riconobbe che vi fossero entrate erano di brutta apparenza come prima e mi svegliai poi vidi ancora nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stelo piene e belle ed ecco altre sette spighe vuote sottili e arse dal vento riettale germogliare dopo quelle altre e le spighi sottili inghiottirono le sette spighe belle io ho raccontato questo ai magi ma non c'è stato alcuno che abbia saputo spiegarmelo allora Giuseppe disse a Faraone ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa e Dio ha significato a Faraone quello che sta per fare le sette vacche belle sono sette anni le sette spighe belle sono sette anni è uno stesso sogno e le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni come pure le sette spighe vuote arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia questo è quello che ho detto a Faraone e Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare ecco stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese e uno non si accorgerà più di quell'abbondanza del paese a motivo della carestia che seguirà perché questa sarà molto aspra e l'essersi il sogno replicato due volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà tosto ordunque si provveda Faraone ad un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto Faraone faccia così costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i sette anni dell'abbondanza e radunino essi tutti i viveri di queste sette buone annate che stan per venire e ammassino il grano a disposizione di Faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei sette anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto e così il paese non perirà per la carestia piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori e Faraone disse ai suoi servitori potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio e Faraone disse a Giuseppe giacché il Dio ti ha fatto conoscere tutto questo non v'è alcuno che sia intelligente e savio al pari di te tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini per il trono soltanto io sarò più grande di te e Faraone disse a Giuseppe vedi io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto e Faraone si tolse l'anello di mano e lo mise nella mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro e lo fece montare sul suo secondo carro davanti a lui si gridava in ginocchio così Faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto e Faraone disse a Giuseppe io sono Faraone e senza te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto e Faraone chiamò Giuseppe Safanad Peneac e gli dette per moglio Asenat figliola di Potifera sacerdote di Ion e Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto or Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò dinnanzi a Faraone re d'Egitto e Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto durante i sette anni da abbondanza la terra produsse a piene mani e Giuseppe adunò tutti i viveri di quei sette anni che vennero nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città ripose in ogni città viveri del territorio circonvicino così Giuseppe ammassò grano come la rena del mare e così gran quantità che si smise di contarlo perché era innumerevole ora avanti che venisse il primo anno della carestia nacquero a Giuseppe due figlioli che a senat figliolo di Potifera sacerdote di On gli partorì e Giuseppe chiamò il primo genito Manasse perché disse i Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre e al secondo perse il nome Efraim perché disse i Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione i sette anni d'abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i sette anni della carestia come Giuseppe aveva detto e ci fu carestia in tutti i paesi ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane poi la carestia si estesse a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò a Faraone per avere del pane e Faraone disse a tutti gli egiziani andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà la carestia era sparsa su tutta la superficie del paese e Giuseppe aperse tutti i depositi e vende grano agli egiziani e la carestia si aggravò nel paese d'Egitto e da tutti i paesi si veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano perché la carestia era grave per tutta la terra Genesi capitolo quarantaduesimo Or Giacobbe vedendo che c'era del grano in Egitto disse ai suoi figlioli perché vi state a guardare l'un l'altro poi disse ecco ho sentito dire che c'è del grano in Egitto scendete colà per comprarsene onde possiamo vivere e non abbiamo a morire e dieci dei fratelli di Giuseppe scessero in Egitto per comprarvi del grano ma Giacobbe non mandò Beniamino fratello di Giuseppe con i suoi fratelli perché diceva che non gli abbia succedere qualche disgrazia e i figlioli di Israele giunsero per comprare del grano in mezzo agli altri che pur venivano poiché nel paese di Canaan c'era la carestia Or Giuseppe era colui che comandava nel paese era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono dinanzi a lui con la faccia a terra e Giuseppe vide i suoi fratelli e le riconobbe ma fece lo straniero davanti a loro e parlò loro aspramente e disse loro donde venite ed essi risposero dal paese di Canaan per comprare dei viveri e Giuseppe riconobbe i suoi fratelli ma essi non riconobbero lui e Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuti intorno a loro e disse voi siete delle spie siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese ed essi a lui no signor mio i tuoi servitori sono venuti a comprare dei viveri siamo tutti figliuoli di uno stesso uomo siamo gente sincera i tuoi servitori non sono delle spie ed egli disse loro no siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese e quelli risposero noi i tuoi servitori siamo dodici fratelli figliuoli di uno stesso uomo del paese di Canaan ed ecco il più giovane e oggi con il nostro padre e uno non è più e Giuseppe disse loro la cosa è come v'ho detto siete delle spie ecco come sarete messi alla prova per la vita di faraone non uscirete di qui prima che il vostro fratello più giovane sia venuto qua mandate uno di voi a prendere il vostro fratello e voi resterete qui in carcere perché le vostre parole siano messe alla prova e si vega se c'è del vero in voi se no per la vita di faraone siete delle spie e li misi assieme in prigione per tre giorni il terzo giorno Giuseppe disse loro fate questo e vivrete io temo il Dio se siete gente sincera uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione e voi andate e portate del grano per la necessità delle vostre famiglie e menatemi il vostro fratello più giovane così le vostre parole saranno verificate e voi non morrete ed essi fecero così e si dicevano l'un l'altro sì noi fummo colpevoli verso il nostro fratello giacché vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava e noi non gli demmo ascolto ecco perché ci viene addosso questa angoscia e Ruben rispose loro dicendo non ve lo dicevo io non commettete questo peccato contro il fanciullo ma voi non mi voleste dare ascolto perciò ecco che il suo sangue ci è ridomandato or quelli non sapevano che Giuseppe li capiva perché fra lui e loro c'era un interprete ed egli si allontanò da essi e pianse poi tornò parlo loro e prese di fra loro Simeone che fece incatenare sotto i loro occhi poi Giuseppe ordinò che se impissero di grano i loro sacchi che si mettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provisioni per il viaggio e così fu fatto ed essi caricarono il loro grano sui loro asini e se ne andarono or l'un d'essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino nel luogo dove pernottavano e vide il suo denaro che era la bocca del sacco e disse ai suoi fratelli il mio denaro m'è stato restituito eccolo è qui nel mio sacco allora il cuore venne loro meno e tremando dicevano l'un all'altro chi è mai questo che Dio ci ha fatto e vennero a Giacobbe loro padre nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era accaduto dicendo l'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattato da spie del paese e noi gli abbiamo detto siamo gente sincera non siamo delle spie siamo dodici fratelli figliuoli di nostro padre uno non è più e il più giovane è oggi con il nostro padre nel paese di Canaan e quell'uomo signore del paese ci ha detto da questo conoscerò se siete gente sincera lasciate presso di me uno dei vostri fratelli prendete quel che vi necessita per le vostre famiglie partite e menatemi il vostro fratello più giovane allora conoscerò che non siete delle spie ma gente sincera io vi renderò il vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese or come si svuotavano i loro sacchi ecco che l'involto del denaro di ciascuno era nel suo sacco essi e il padre loro videro gli involti del loro denaro e furono presi da paura e Giacobbe loro padre disse voi mi avete privato dei miei figliuoli Giuseppe non è più Simone non è più e mi volete togliere anche Beniamino tutto questo cade addosso a me e Ruben disse a suo padre se non te lo rimeno fa morire i miei due figliuoli affidalo a me io te lo ricondurrò ma Giacobbe rispose il mio figliuolo non scenderà con voi poiché il suo fratello è morto e questo solo è rimasto se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio fareste scendere con cordoglio la mia canizia nel soggiorno dei morti Genesi capitolo quarantatreesimo or la carestia era grave nel paese e quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto il padre disse loro tornate a comprarsi un po' di viveri e Giuda gli rispose dicendo quell'uomo ce lo dichiarò positivamente non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi se tu mandi il nostro fratello con noi noi scenderemo e ti compreremo dei viveri ma se non lo mandi non scenderemo perché quell'uomo ci ha detto non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi e Israele disse perché mi avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello e quelli risposero quell'uomo ci interrogò partitamente intorno a noi al nostro parentato dicendo vostro padre vive egli ancora avete qualche altro fratello e noi gli rispondemmo a tenore delle sue domande potevamo noi mai sapere che ci avrebbe detto fate venire il vostro fratello e Giuda disse a Israele suo padre lascia venire il fanciullo con me e ci leveremo e andremo e noi vivremo e non morremo né noi né tu né i nostri piccini io mi rendo garante di lui ridomandane conto dalla mia mano se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti io sarò per sempre colpevole verso di te se non ci fossimo indugiati a quest'ora saremmo già tornati due volte allora Israele loro padre disse loro se così è fate questo prendete nei vostri sacchi delle cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono un po' di balsamo un po' di miele degli aromi della mirra dei pistacchi e delle mandorle e pigliate con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi forse fu un errore prendete anche il vostro fratello levatevi e tornate da quest'uomo e lì Dio onnipotente vi faccia trovare grazie ad innanzi a quell'uomo sì che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino e se debbo essere privato dei miei figliuoli che io lo sia quelli presero dunque il dono presero seco il doppio del denaro e Beniamino e levati si scessero in Egitto e si presentarono dinanzi a Giuseppe e come Giuseppe vide Beniamino con loro disse al suo maestro di casa conduci quest'uomini in casa macella e prepara tutto perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno e l'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li menò in casa di Giuseppe e quelli ebbero paura perché erano menati in casa di Giuseppe e dissero siamo menati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta ed ei vuol darci addosso precipitarsi su noi e prendersi come schiavi coi nostri asini e accostarsi al maestro di casa di Giuseppe gli parlarono sulla porta della casa e dissero scusa signore mio noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri e avvene che quando fumo giunti al luogo dove pernottammo aprimo i sacchi ed ecco il denaro di ciascun di noi era alla bocca del suo sacco il nostro denaro del peso esatto e noi l'abbiamo riportato con noi e l'abbiamo portato con noi dell'altro denaro per comprare dei viveri noi non sappiamo chi avesse messo il nostro denaro nei nostri sacchi ed egli disse datevi pace non temete l'idio vostro l'idio del vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi io ebbi il vostro denaro e fatto uscire Simeone lo condusse loro quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe dette loro dell'acqua ed essi si lavarono i piedi ed egli dette del foraggio ai loro asini ed essi prepararono il regalo aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno perché avevano inteso che rimarebbe qui via mangiare e quando Giuseppe venne a casa quelli gli porsero il dono che avevano portato seco dalla casa e si inchinarono fino a terra davanti a lui egli domandò loro come stessero e disse vostro padre il vecchio di cui mi parlaste sta egli bene vive egli ancora e quelli risposero il padre nostro tuo servo sta bene vive ancora e si inchinarono e gli fecero riverenza poi Giuseppe alzò gli occhi vide beniamino il suo fratello figliuolo della madre sua e disse e questo è il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste poi disse a lui e Dio ti sia propizio figliuolo mio e Giuseppe si affrittò ad uscire perché le sue viscere si erano commosse per il suo fratello e cercava un luogo dove piangere entrò nella sua camera e qui vi pianse poi si lavò la faccia ed uscì si fece forza e disse portate il pranzo e fu dunque portato il cibo per lui a parte e per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei per gli egiziani è una cosa abominevole ed essi si misero a sedere dinanzi a lui il primogenito secondo il suo diritto di primogenitura e il più giovane secondo la sua età e si guardavano l'un l'altro con meraviglia e Giuseppe feo loro portare delle vivande che aveva dinanzi ma la porzione di beniamino era cinque volte maggiore di quella di ogni altro di loro e bevero e stettero allegri con lui Genesi capitolo quarantaquattresimo Giuseppe dette quest'ordine al suo maestro di casa riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possano portare e metti il denaro di ciascun dessi alla bocca del suo sacco e metti la mia coppa la coppa d'argento alla bocca del sacco del più giovane assieme al denaro del suo grano ed egli fece come Giuseppe aveva detto la mattina non appena fu giorno quegli uomini furono fatti partire coi loro asini e quando furono usciti della città non erano ancora lontani Giuseppe disse al suo maestro di casa levati va dietro a quegli uomini e quando li avrai raggiunti di loro perché avete reso mal per bene non è quella la coppa nella quale il mio Signore beve e della quale si serve per indovinare avete fatto male a far questo egli li raggiunse e disse loro quelle parole ed essi gli risposero perché il mio Signore ci rivolge parole come queste ed io preservi i tuoi servitori dal fare una tal cosa ecco noi ti abbiamo portato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi come dunque avremmo rubato dell'argento e dell'oro dalla cassa del tuo Signore quello dei tuoi servitori presso il quale si troverà la coppa sia messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo Signore ed egli disse ebbene sia fatto come dite colui presso il quale sarà trovato sarà mio schiavo e voi sarete innocenti in tutta fretta ognuno dessi mise giù il suo sacco a terra e ciascuno aprì il suo e il maestro di casa li frugò cominciando da quello del maggiore per finire con quello del più giovane e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino allora quelli si stracciarono le vesti ognuno ricaricò il suo asino e tornarono alla città Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe il quale era ancora quivi e si gettarono in terra dinanzi a lui e Giuseppe disse loro che azione è questa che avete fatta non lo sapete che un uomo come me ha potere di indovinare Giuda rispose che diremo al mio signore quali parole useremo o come ci giustificheremo Dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servitori ecco siamo schiavi del mio signore tanto noi quanto colui mano del quale è stata trovata la coppa ma Giuseppe disse mi guardi Dio dal far questo l'uomo in mano del quale è stata trovata la coppa sarà mio schiavo quanto a voi risalite in pace dal padre vostro allora Giuda si accostò a Giuseppe e disse di grazia signor mio permetti al tuo servitore di far uscire una parola al mio signore e non s'accenda l'iratua contro il tuo servitore poiché tu sei come faraone il mio signore interrogò i suoi servitori dicendo avete voi padre o fratello e noi rispondemmo al mio signore abbiamo un padre che è vecchio con un giovane figlio natogli nella vecchiaia il fratello di questo è morto tal che egli è rimasto solo dei figlioli di sua madre e suo padre l'ama allora tu dicesti ai tuoi servitori menatemelo perché lo vegga con i miei occhi e noi dicemmo al mio signore il fanciullo non può lasciare suo padre perché se lo lasciasse suo padre morirebbe e tu dicesti ai tuoi servitori se il vostro fratello più giovane non scende con voi voi non vedrete più la mia faccia e come fumo risaliti a mio padre tuo servitore gli riferimmo le parole del tuo signore poi nostro padre disse tornate a comprarci un po' di viveri e noi rispondemmo non possiamo scendere laggiù se il nostro fratello più giovane verrà con noi scenderemo perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi e mio padre tuo servitore ci rispose voi sapete che mia moglie mi partorì due figlioli l'undessi si partì da me e io dissi certo egli è stato sbranato e non l'ho più visto da allora e se mi togliete anche questo se egli avviene qualche disgrazia voi farete scendere con dolore la mia canizia nel soggiorno dei morti or dunque quando giungerò da mio padre tuo servitore se il fanciullo all'anima del quale la sua è legata non è con noi avverrà come avrà veduto che il fanciullo non c'è egli morrà e i tuoi servitori avranno fatto scendere con cordoglio la canizia del tuo servitore nostro padre nel soggiorno dei morti ora siccome il tuo servitore si è reso garante del fanciullo presso mio padre e egli ho addetto se non te lo ricondurrò sarò per sempre colpevole presso mio padre dè permetti ora che il tuo servitore rimanga schiavo del mio signore invece del fanciullo e che il fanciullo se ne torni coi suoi fratelli perché come farei a risalire da mio padre senza aver me coi il fanciullo a che io non vegga il dolore che ne verrebbe a mio padre Genesi capitolo quarantacinquesimo allora Giuseppe non poteva più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò fate uscire tutti dalla mia presenza e nessuno rimase con Giuseppe quando egli si dia conoscere i suoi fratelli e alzò la voce piangendo gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone e Giuseppe disse ai suoi fratelli io sono Giuseppe mio padre vive egli tuttora ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti dalla sua presenza Giuseppe disse ai suoi fratelli dè avvicinatevi a me quelli si avvicinarono ed egli disse io sono Giuseppe vostro fratello che voi vendeste perché fosse menato in Egitto ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita infatti sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque durante i quali non ci sarà né aratura né messe ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché si è conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con grande liberazione non siate dunque voi che mi avete mandato qua ma Dio egli mi ha stabilito come padre di Faraone signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto affrettatevi e risalite da mio padre e ditali così dice il tuo figliuolo Giuseppe e Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto scendi da me non tardare tu dimorerai nel paese di Koshen e sarai vicino a me tu e i tuoi figliuoli e i figliuoli dei tuoi figliuoli i tuoi greggi i tuoi armenti e tutto quello che possiedi e qui vi io ti sostenrò perché si saranno ancora cinque anni di carestia onde tu non sia ridotto alla miseria tu la tua famiglia e tutto quello che possiedi ed ecco voi vedete coi vostri occhi e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi che è proprio la mia bocca quella che vi parla raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto e fate che mio padre scenda presso qua e gettatosi al collo di Beniamino suo fratello pianse e Beniamino pianse sul collo di lui baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo e dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui che il rumore della cosa si sparse nella casa di Faraone e si disse sono arrivati i fratelli di Giuseppe il che piacque a Faraone e dai suoi servitori e Faraone disse a Giuseppe di ai tuoi fratelli fate questo caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canam prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me ed io vi darò del meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso del paese tu hai l'ordine di dir loro fate questo prendete del paese d'Egitto dei carri per i vostri piccini e per le vostre mogli conducete vostro padre e venite e non vi rincresca di lasciare le vostre masserizie perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro e figliuoli di Israele fecero così e Giuseppe diede loro dei carri secondo l'ordine di Faraone e diede loro delle provisioni per il viaggio e a tutti diede un abito di ricambio per ciascuno ma Beniamino dette trecento sicli d'argento e cinque mute di vestiti e a suo padre mandò questo dieci asini carichi delle migliori cose d'Egitto dieci asini carichi di grano e di pane di viveri per suo padre durante il viaggio così licenziò i suoi fratelli e questi partirono ed egli disse loro non ci siano per via delle dispute fra voi ed essi risalirono dall'Egitto e vennero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre e gli riferirono ogni cosa dicendo Giuseppe vive tuttora ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via allora lo spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò e Israele disse basta e il mio figliuolo Giuseppe vive tuttora ed io andrò e lo vedrò prima di morire Genesi capitolo quarantaseiesimo Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici all'iddio di Isacco suo padre e Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe Giacobbe ed egli rispose eccomi e Dio disse io sono idio l'iddio di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi allora Giacobbe partì da Beersheba e i figlioli di Israele fecero salire Giacobbe loro padre i loro piccini le loro mogli sui carri che Faraone aveva mandato per trasportarli ed essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquistato nel paese di Canaan e vennero in Egitto Giacobbe e tutta la sua famiglia con lui egli condusse secco in Egitto i suoi figlioli le sue figliole e le figliole dei suoi figlioli e tutta la sua famiglia questi sono i nomi dei figlioli di Israele che vennero in Egitto Giacobbe e i suoi figlioli il primo genito di Giacobbe Ruben i figlioli di Ruben Enoch Pallù Ezron e Carmi e Carmi i figlioli di Simeone Iemuel Iamin Hohad Iachim Tsoar e Saul figliolo di una Cananea i figlioli di Levi Gerson Kehath e Merari i figlioli di Giuda Er Onan Shela Peres Zerac ma Er e Onan morirono nel paese di Canan e i figlioli di Peretz furono Ezron e Hamud i figlioli di Issachar Tola Puva Iob e Shimron i figlioli di Zabulon Codesti sono i figlioli che lea partoria a Giacobbe e a Padangaran oltre di una figliola di lui I suoi figlioli e le sue figliole erano in tutto trentatré persone I figlioli di Gad Siphion Haggi Shuni Ezbon Harry Arodi e Ereli I figlioli di Asher Imna Ziva Sivi Beria Serat la loro sorella e i figlioli di Beria Heber e Elkiel Codesti furono i figlioli di Zilpa che l'Ebano aveva data a lei a sua figliola ed essa li partoria a Giacobbe in tutto sedici persone i figlioli di Rachel e moglie di Giacobbe Giuseppe e Beniamino e a Giuseppe nel paese d'Egitto nacqueron Manasse ed Ephraim i quali Asenat figliola di Potifera sacerdote di On li partorì i figlioli di Beniamino Bela Becker Ashbel Gera Naaman Hei Rosh Mupim Hupim e Hard Codesti sono i figlioli di Rachele che nacquero a Giacobbe in tutto quattordici persone i figlioli di Dan Ushim i figlioli di Neftali Yatzil Guni Yetze Shilem Codesti sono i figlioli di Bila che Lebano aveva dato a Rachele sua figliola ed essa li partoria a Giacobbe in tutto sette persone le persone che vennero con Giacobbe in Egitto discendenti da lui senza contare le mogli dei figlioli di Giacobbe erano in tutto sessantasei e i figlioli di Giuseppe nati in Egitto erano due il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di settanta o Giacobbe mandò avanti a sé Giuda a Giuseppe perché questi lo introducesse nel paese di Goshen e giunsero nel paese di Goshen Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele suo padre e gli si presentò gli si gettò al collo e pianse lungamente sul collo di lui e Israele disse a Giuseppe ora che io muoia pure già che ho veduto la tua faccia e tu vivi ancora e Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre io salirò a informare Faraone e gli dirò i miei fratelli e la famiglia di mio padre che erano nel paese di Canaan sono venuti da me questi uomini sono pastori poiché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno menato seco i loro greggi i loro armenti e tutto quello che posseggono e quando Faraone vi farà chiamare vi dirà qual è la vostra occupazione risponderete i tuoi servitori sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino a quest'ora così noi come i nostri padri direte così perché possiate abitare nel paese di Goshen poiché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori Genesi capitolo quarantasettesimo Giuseppe andò quindi a informare Faraone e gli disse mio padre e i miei fratelli con loro greggi con loro armenti e con tutto quello che hanno sono venuto dal paese di Canaan ed ecco sono nel paese di Goshen e presse cinque uomini di fra i suoi fratelli e li presentò a Faraone e Faraone disse ai fratelli di Giuseppe qual è la vostra occupazione ed essi rispossero a Faraone i tuoi servitori sono pastori come furono i nostri padri poi dissero a Faraone siamo venuti per dimorare in questo paese perché nel paese di Canaan non c'è pastura per i greggi dei tuoi servitori poiché la carestia ve grave dè permetti ora che i tuoi servi dimorino nel paese di Goshen e Faraone parlò a Giuseppe dicendo tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te il paese d'Egitto ti sta dinanzi fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese dimorino pure nel paese di Goshen e ne conosci fra loro degli uomini capaci falli sovrintendenti del mio bestiame poi Giuseppe menò Giacobbe suo padre da Faraone e glielo presentò e Giacobbe benedisse Faraone e Faraone disse a Giacobbe quanti sono i giorni del tempo della tua vita Giacobbe rispose a Faraone i giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono centotrent'anni i giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri ai di dei loro pellegrinaggi Giacobbe benedisse ancora a Faraone e si ritirò dalla presenza di lui e Giuseppe stabilì suo padre e i suoi fratelli e dette loro un possesso nel paese d'Egitto nella parte migliore del paese nella contrada di Ramses come Faraone aveva ordinato e Giuseppe sostentò suo padre e i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre provvedendoli di pane secondo il numero dei figlioli ora in tutto il paese non c'era pane perché la carestia era gravissima il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano a motivo della carestia Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava e Giuseppe portò questo denaro nella casa di Faraone e quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan tutti gli egiziani vennero a Giuseppe e dissero dacci del pane perché dovremmo morire in tua presenza già che il denaro è finito e Giuseppe disse date il vostro bestiame e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame se non avete più denaro e quelli menarono a Giuseppe il loro bestiame e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli dei loro greggi di pecore delle loro mandre di buoi e dei loro asini così fornì loro del pane per quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame passato quell'anno tornarono a lui l'anno seguente e gli dissero noi noi non ce l'eremo al mio signore che il denaro essendo esaurito e le mandre del nostro bestiame essendo passate al mio signore nulla più resta che il mio signore possa prendere tranne i nostri corpi e le nostre terre e perché dovremmo perire sotto gli occhi tuoi noi e le nostre terre compra noi e le terre nostre in cambio di pane e noi con le nostre terre saremo schiavi di faraone e dacci da seminare affinché possiam vivere e non moriamo e il suono non diventi un deserto così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto giacché gli egiziani venderono ognuno il suo campo perché la carestia li colpiva gravemente così il paese diventò proprietà di faraone quanto al popolo lo fece passare nelle città da un capo all'altro dell'Egitto solo le terre dei sacerdoti non acquistò perché i sacerdoti ricevevano una provisione segnata loro da faraone e vivevano nella provisione che faraone dava loro per questi essi non venderono le loro terre e Giuseppe disse al popolo ecco oggi ho acquistato voi e le vostre terre per faraone eccovi del seme seminate la terra e al tempo della raccolta ne darete il quinto a faraone e quattro parti saranno vostre per la sementa dei campi e per il nutrimento vostro e di quelli che sono in casa vostra e per il nutrimento dei vostri bambini e quelli dissero tu ci hai salvato la vita ci si è dato di trovare grazie agli occhi del mio signore e saremo schiavi di faraone e Giuseppe ne fece una legge che dura fino al dì d'oggi secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per faraone non ci furono che le terre dei sacerdoti che non furono di faraone così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto nel paese di Goshen vi ebbero dei possessi e vi accrebbero e moltiplicarono oltremodo e Giacobbe visse nel paese d'Egitto diciassette anni e i giorni di Giacobbe e gli anni della sua vita furono centoquarantasette e quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte chiamò il suo figliuolo Giuseppe e gli disse Deh se ho trovata grazia agli occhi tuoi mettimi la mano sotto la coscia e usami benignità e fedeltà Deh non mi seppellire in Egitto ma quando giacerò con miei padri portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro ed egli rispose farò come tu dici e Giacobbe disse giuramelo e Giuseppe glielo giurò e Israele voltò al capo del letto e adorò Genesi capitolo quarantottesimo dopo queste cose e avvenne che fu detto a Giuseppe ecco tuo padre ammalato ed egli prese seco i suoi due figliuoli Menasse ed Efraim e Giacobbe ne fu informato e gli fu detto ecco il tuo figliuolo Giuseppe viene da te e Israele raccolse le sue forze e si mise a sedere sul letto e Giacobbe disse a Giuseppe l'Idio Onipotente mi apparve a Luz nel paese di Cana mi benedisse e mi disse ecco io ti farò fruttare ti moltiplicherò e ti farò diventare questo paese alla tua progenie dopo di te come un possesso perpetuo ed ora i tuoi due figliuoli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima che io venissi da te in Egitto sono miei Efraim e Menasse saranno miei come Ruben e Simeone ma i figliuoli che hai generati dopo di loro saranno tuoi essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli quanto alla loro eredità quanto a me allorché tornavo da Padam Rachele morì presso di me nel paese di Canan durante il viaggio a qualche distanza da Efrata e la seppellei qui vi sulla via di Efrata che è Bethlehem e Israele guardò i figliuoli di Giuseppe e disse questi chi sono e Giuseppe rispose a suo padre sono i miei figliuoli che Dio mi ha dati qui ed egli disse Dei fa che si appressino a me e io li benedirò or gli occhi di Israele erano annebbiati a motivo dell'età sì che non ci vedeva più e Giuseppe li fece avvicinare a lui ed egli li baciò e li abbracciò e Israele disse a Giuseppe io non pensavo di rivedere più la tua faccia ed ecco il Dio mi ha dato di vedere anche la tua progenie Giuseppe li ritirò di tra le ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra poi Giuseppe li prese ambedue Efraim alla destra e alla sinistra di Israele e Menasti alla sua sinistra alla destra di Israele e li fece avvicinare a lui e Israele stesse la sua mandestra e la posò sul capo di Efraim che era il più giovane e posò la sua mano sinistra sul capo di Menasse incrociando le mani poiché Menasse era il primo genito e benedisse Giuseppe e disse li Dio nel cui cospetto camminarono i miei padri Abramo e Isacco li Dio che è stato il mio pastore da che esisto fino a questo giorno l'angelo che mi ha liberato da ogni male e benedica questi fanciulli siano chiamati col mio nome e col nome dei miei padri Abramo ed Isacco e moltiplicano copiosamente sulla terra or quando Giuseppe vide che suo padre posava la mandestra sul capo di Efraim nebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla sul capo di Efraim e metterla sul capo di Menasse e Giuseppe disse a suo padre non così padre mio perché questo è il primo genito metti la tua mano destra sul suo capo ma suo padre ricusò e disse lo so figlio lo mio lo so anch'egli diventerà un popolo e anch'egli sarà grande non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua progeni diventerà una moltitudine di nazioni e in quel giorno li benedisse dicendo per te Israele benedirà dicendoli Dio ti faccia simile ad Efraim e a Menasse e mise Efraim prima di Menasse poi Israele disse a Giuseppe ecco io mi muoio ma Dio sarà con voi e vi ricondurrà nel paese dei vostri padri ed io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli quella che conquistai dalla mano degli amorei con la mia spada e col mio arco Genesi capitolo quarantanovesimo poi Giacobbe chiamò i suoi figlioli e disse adunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire adunatevi e ascoltate o figlioli di Giacobbe date ascolto a Israele vostro padre Ruben tu sei il mio primogenito la mia forza la primizia del mio vigore eminente indignità ed eminenza di forza impetuoso come l'acqua tu non avrai la preeminenza perché sei salito sul letto di tuo padre allora tu l'hai profanato egli è salito sul mio letto Simeone e Levi sono fratelli le loro spade sono strumenti di violenza non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto non si unisca la mia gloria alla loro radunanza poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nel loro malanimo hanno tagliato i garretti ai tori maledetta l'ira loro perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele Giuda te loderanno i tuoi fratelli la tua mano sarà sulla service dei tuoi nemici i figlioli di tuo padre si prostreranno dinanzi a te Giuda è un giovane leone tu risali dalla preda figliol mio egli si china s'accovaccia come un leone come una leonessa chi lo farà levare? lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi finché giunga colui che darà il riposo e a quale obbidiranno i popoli egli lega il suo asinello alla vite e il pulledro della sua asina alla vite migliore lava la sua veste col vino e il suo manto col sangue dell'uva egli ha gli occhi rossi dal vino i denti bianchi dal latte Zabulon abiterà sulla costa dei mari sarà sulla costa dove convengono le navi e il suo fianco s'appoggerà a Sidon Isaacar è un asino robusto sdraiato fra i tramezzi del chiuso egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno ha corvato la spalla per portare il peso ed è divenuto un servo forzato al lavoro Dan giudicherà il suo popolo come una delle tribù di Israele Dan sarà una serpe sulla strada una cerasta sul sentiero che morde i talloni del cavallo sì che il cavaliere cade all'indietro io ho aspettato la tua salvezza o eterno Gad la siliranno delle bande armate ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà da Asher verrà il pane saporito ed ei fornirà delizi e reali neftali neftali è una cerva messa in libertà e gli dice delle belle parole giuseppe è un ramo d'albero fruttifero un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente i suoi rami si stendono sopra il muro gli arcieri l'hanno provocato e gli ha lanciato dei dardi e l'hanno perseguitato ma l'arco suo è rimasto saldo e le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe da colui che è il pastore Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'altissimo che ti benedirà con benedizioni dal cielo di sopra con benedizioni dall'abisso che giaci di sotto con benedizioni dalle mammelle del seno materno le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori fino a raggiungere la cima delle colline eterne esse saranno sul capo di Giuseppe sulla fronte del principe dei suoi fratelli Beniamino è un lupo rapace la mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie tutti costoro sono gli antenati delle dodici tribù di Israele e questo è quello che il loro padre disse loro quando li benedisse li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare poi dette loro i suoi ordini e disse io sto per essere riunito al mio popolo seppellitimi con miei padri nella spelonca che è nel campo di Efron Loiteo nella spelonca che è nel campo di Macpela di Rimpeto a Manre nel paese di Canaan la quale Abramo comprò col campo da Efron Loiteo come sepolcro di sua proprietà qui vi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie qui vi furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie qui vi io seppellì Lea il campo e la spelonca che vi si trova furono comprati dai figlioli di Het quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai suoi figlioli ritorò i piedi entro il letto e spirò e fu riunito al suo popolo Genesi capitolo cinquantesimo allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre pianse su lui e lo baciò poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre e i medici imbalsamarono Israele ci vollero quaranta giorni perché tanto è il tempo che si impiega ad imbalsamare e gli egiziani lo piansero settanta giorni e quanto i giorni del lutto fatto per lui furono passati Giuseppe parlò alla casa di Faraone dicendo se ora ho trovato grazie agli occhi vostri fate giungere agli orecchi di Faraone queste parole mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto ecco io muoio seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canam ordunque permetti che io salga e seppellisca mio padre poi tornerò e Faraone rispose sali e seppellisci tuo padre come t'ha fatto giurare allora Giuseppe salì a seppellire suo padre e con lui salirono tutti i servitori di Faraone gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto e tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre non lasciarono nel paese di Goshenk e i loro bambini i loro greggi e i loro armenti con lui con lui salirono pure carri e cavalieri tal che il cortegio era numerosissimo e come furono giunti all'aia di Atad che era oltre il Giordano vi fecero grandi e profondi lamenti e Giuseppe fece a suo padre un lutto di sette giorni or quando gli abitanti del paese i cananei videro il lutto dell'aia di Atad dissero questo è un grave lutto per gli egiziani perciò fu messo nome Abel Mitzraim a quell'aia che è oltre il Giordano i figlioli di Giacobbe fecero per lui quello che gli aveva ordinato loro lo trasportarono nel paese di Cana e lo seppellirono nella spelonca del campo di Mecpela che Abramo aveva comprato col campo da Efron lo Itteo come sepolcro di sua proprietà di rimpetto a Mamre Giuseppe dopo che ebbe sepolto suo padre se ne tornò in Egitto coi suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre i fratelli di Giuseppe quando videro che il loro padre era morto dissero chissà che Giuseppe non ci porti odio e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto e mandarono a dire a Giuseppe tuo padre prima di morire dette quest'ordine dite così a Giuseppe dè perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato perché t'hanno fatto del male dè perdona dunque ora il misfatto dei servi dell'iddio di tuo padre e Giuseppe quando gli fu parlato così pianse e i suoi fratelli vennero anch'esse e si prostrarono ai suoi piedi e dissere ecco siamo tuoi servi e Giuseppe disse loro non temete poiché son io forse al posto di Dio voi avete pensato del male contro a me ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene per conservare in vita un popolo numeroso ora dunque non temete io sostenterò voi e i vostri figlioli e li conforterò e parlò al loro cuore in quella maniera Giuseppe dimorò in Egitto egli con la casa di suo padre e visse centodieci anni Giuseppe vide i figlioli di Efraim fino alla terza generazione anche i figlioli di Machir figliolo di Menasse nacquero sulle sue ginocchia e Giuseppe disse ai suoi fratelli io sto per morire ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo a Isacco e a Giacobbe e Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo lì Dio per certo vi visiterà allora trasporterete di qui le mie ossa poi Giuseppe morì in età di centodieci anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto